Benvenuti in questo nuovo video di Fortnite, benvenuti in questa nuova dettron, il Fer è un po' arrabbiata perché dobbiamo fare 202 livelli Ragazzi, non diritto, manco fossi una metropolitana e vado, sono morto Bravo, che era dritto come le metropolitane Io all'inizio avevo capito 102 levels e mi è uscito un porca miseria che è davvero, invece poi addirittura sono 202 Ah, Fer neanche ne aveva capito che era 202 300-200 è un attimo E appunto, dobbiamo andare qua? Adesso? Ah, qui Mi state dando fastidio È molto strano, non si capisce dove devi andare Eh, no, io l'ho detto Eh, non l'hai, non puoi dire Ci sono troppo, l'ho detto, però Ma no, ma io me la prendo, lo sai Ma dove è Mark? Ha l'impulso Per regola, questo Vai Mi vedi? Aspetta Ma dove sei, stai? Voglio favorire, stasso, voglio favorire Questo è il male, veramente, questo livellino qua Ok Ok Raga, ma se volete vi citate tutti Allora, ragazzi Si può camminare nei bordi, cioè Ok Eh, ma non ci sono sempre i bordi, eh One Ma come si può camminare nei bordi? No A volte sì Tipo quello che tu hai fatto con l'impulso L'abbiamo fatto correndo nel bordo Anch'io Non che fosse difficile No, no, certo, però Sarà per ridere Ok, walk off Va bene Raga, io ho accelerato, eh Ho fatto partire la metropolitana Steph, Steph è un po' troppo avanti, Fiere Dobbiamo un po' raggiungerla, che dici? Sono d'accordo La metropolitana, ho senso di me Sì, sì, sì Ok Molto bene Speed Sono morto Sono morto Ma dai, ma come ho fatto a saltare così poco? Quello della speed è il male, comunque, ragazzi Ve lo dico Ma è tutto il male No, dai, l'ha fatto easy Cos'è walk off? Io sto camminando nel bordo No, devi scendere verso il basso E io ho camminato nel bordo lo stesso E l'hai fatto? Lo sto facendo camminando nel bordo Ok Non l'ho capito Raga, giuriamo che io a Marco non lo stiamo facendo come il finale Giuro Ma va, no Adesso mi giro e vediamo quanti ne vedo nel bordo Il trenino Thomas sul porto Il trenino campioncino E' a 18 No, son caduto Raga, almeno prendete il traghettino Invece che il trenino Come se No, voglio Ok, non è scattata la trappola Ma come si sale? Ok, ce l'ho fatto Allora Dai, è molto carina comunque Sì, sì, è una delle più belle Perché pensavo Fosse di quelle solide che ti fanno impazzire Giù dai primi livelli Invece è strutturata in modo diverso E alla fine è carina Perché c'è molta varietà E sono divertenti Cosa devo fare qua? Oh, vedo Steph finalmente Ok Up and over Marce 17 Ah, si rompono i blocchi dietro Ok Questo è totalmente utile Come è questo? Perfetto Ok Poi andiamo qua Poi qua Poi qua Poi qua Poi qua Poi qua Mi sono bloccato Davvero? Sì A che livello? No dai Il 26 Stavo il 23 23 17 Supporta Credo Sono vivo Sono andato Addio Chi è che spara? Non si spara nella vita Io qualcuno l'ho citato Che brutta Strano Non l'avrei mai detto Che Marce città In realtà non tutti Cioè dal video si potrà vedere No Ecco sì Sono caduto Ok E qua? Sepe è sempre 8 davanti a me Cos'è quest'acqua raga? Ho paura No, devi andare dritta Ah, ok Sì Sì Sono l'avrei citato Cosa è la sto pinga ragazzi? Ma Ma Sto andando al canzone Dai, è carinissima comunque What is happening? Lo gravity Ok Raga, è pieno di cose diverse tra loro Infatti è bella per quella Guarda che comunque È veramente bellissima Mi piace un sacco Io lo vorrei fare in live Guardate Palla Perché no? Però contro Stef Contro di voi Io voglio fare Contro di me? Sì Ma vai a mangiare un panino Sono morto dove è morto Marci Non gli piace il panino Un panino Alla pasta al sugo Oh, che buono Stef Che schifo Mi avevo avuto lo sbocchino Lo sapete? Sì, parca miseria Che schifo raga Aspetta, cosa devo fare? No, sono andato troppo avanti Sono andato a terra Un po' di indietro Questo non è banale Ma c'è il po' Viola Ma c'è il po' Parca miseria Mi sono ricollegata al po' Oh Come ho fatto a morire qua? Non c'è uno che non riesce a fare Stef Sì, sono bloccato da un po', eh Eh, meno male Dai, che ti raggiungo Da un po' Uff Ma Fatto Allora 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 Eh, allora No, non lo dico il 60 minuti Non l'ho detto Ok, mi ha trollato Finalmente ci sono arrivata Porca miseria Ok, basta come lo dovrei fare Raga con le trappole Quelle di veleno Le devo triggerare piano piano Sì Quelle velenose Chi è che sono una canzone da more Io sono andato dritto, dritto E poi sono molto la fine Però almeno No, va bene Triggerate L'ho fatto pieno piano E via Marci di sacramenti Semino Ci sono dei livelli Su cui ti potresti blocare Però adesso nessuno Ok Io ho realizzato quindi Che sono al 31 Non ho capito Quindi il famoso 26 Su cui si era bloccato Steph Eh, boh Un livello in cui mi sono bloccato Low gravity Dove c'è un palle Poi due volte ho finato Non è possibile, Steph Eh, boh Non riuscivo a fare Il long jump iniziale Ma no, non è long jump Di andare sul pallet Dovevi andare Infatti, Steph Porca miseria Io non ho parole, veramente Io l'ho capito vedendo Marci No Vabbè Cioè, anch'io stavo cercando di fare I salti lunghi Poi ho visto Marci farle Ho fatto Ah, ecco Ah, ecco Ecco Perché muoio il livello Sipidissimo Quello con l'impulso Con la slurp Sì Anche io non ci sto riuscendo Eh, quello è testino, eh Che senso Steph è il 51 Eh, nel senso che devo finire il video Ragazzi Non riesco a fare quello delle gomme Siamo già sette minuti Quindi No, Steph Devi finirla tutta Eh Tutti i 200 livelli Eh, ragazzi Mi stai venendo andando Mi stai venendo da piantare Quindi dico Devo traiardare Perché tanto il 10.01 Lo facciamo per forza Ormai Hai ragione Allora c'è un problema di fondo Ragazzi Ovvero La nascita Del fondo del po' Allora non riesco a fare sto pezzo Ma porca di quella porca miseria Ahia, eh Adesso arrivo, Marci Calmiamoci Vediamo cos'è Vai Ok Ok Ti ho detto che ti avrei seminato No Non si può saltare sopra la slurp Io ti avevo avvisato No, Arai N'è giusto N'è giusto Sopra quella più piccola Quella più grossa No, io ce l'ho sopra Ok Ma ce l'hai fatto a farlo tu? No, perché Non lo so Mi hai distratto E la fine Sono caduta in quella Ah, adesso è colpa mia Fere 20 livelli di distanza Ah, non si può saltare in quel senso Ok Io ho capito adesso E allora lo devi fare tutto dritto È un casino No, mi ha ucciso male Questo potrebbe essere un problema Siamo afficcicati Sì, vorrei solo dall'altra parte Ho sentito un rampione d'astetto No, io sì Allora Io mi butto di dove c'è di te Quando la butto Prova a indietreggiare, vai Ah, potevi farla tu, vabbè Vabbè, vai Ma che hai fatto? Non mi ha fatto cadere là Allora Ok, chiaro Chiara? Ok, l'ho fatto, l'ho fatto Marci, salto molto in lungo Mannaggia, mannaggia Non mi ha preso il salto Deve essere una parabola molto lunga Quindi salta all'ultimo della tua piattaforma Praticamente visto che nella piattaforma E' una scrittina di fronte Io ho saltato al limite Ragazzi, in realtà potete andare anche sul Sullo slurp Quello poco prima della fine Eh, non me lo facevo fare Quello poco prima della fine puoi fare Quello piccolino Sì, io sono andata su quello piccolino E poi ho saltato Punta al piccolino Eh, raga, raga La vita La vita è difficile Eh, la vita è difficile Cosa vuol dire? Mote to drop Devo fare una moto Devo fare una moto E ti trolla di brutto Fa troppo ridere No, vabbè Che paura E adesso? Niente, rai Mi ha recuperato Marco Che è finita per me Non ho capito Intanto mi ritrovo in livelli Che non capisco Ok Allora Questo è un po' Strano Perché se no Non capisco Allora Ah, ma devo salire su qualcosa piccolino? Sì, su quello piccolino Puoi andare anche sul grosso Alla fine L'ho fatto io adesso Ok Ok Ce l'ho fatto Mamma mia Ok Mi perdo dei livelli stupidissimi Mamma mia Di questo livello ragazzi Scusate Mi l'ho fatto in un secondo Quale è la slu? No, io l'ho fatto in fretta Non ti vantare Cioè ho capito il metodo L'ho fatto in fretta Io adoro i livelli dove c'è la speed Purtroppo sono pochi Ok Infatti la mia dettora preferita in assoluto Penso sia la Fortnite Flash Death Ah, bella quella Quella è bellissima Però fa impazzire quella Quella è quella che c'è la livello anche nella scorsa che abbiamo fatto Stef Che si andava solo a andare veloci Bravo Quelli sono i miei livelli preferiti su Fortnite Allora questo potrebbe farmi un po' arrabbiare Sì, 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 sì Non posso saltarlo così Sono a 70 Nooo Sono caduta Peccato Un po' di trigger Stef, aspettami Ma cosa? Sto arrivando Sì Sto arrivando Ragazzi No, no, no Marco, aspetta Direi di qua Eh, esatto Sono qua con voi Volevo citare e son morta Volevo Te lo meriti Ciao Se l'abbia superato Ciao Come hai fatto? Ma non è possibile Raga, io ho la corsa Quella automatica E non mi prendo la corsa in aria Uh No, anch'io La corsa automatica Anche Stef, Marci Quindi non penso Che voglio dire qualcosa Ah, bisogna farlo così Così Ah, niente, niente, niente Ah, ce l'ho fatto Normale? Sì, sì Senza andare Ok Ok Ce l'ho fatto anche io Dai, mi è portato Per vedere che arrivare al 100 Mi renderebbe già felice Questo è difficile Questo è difficile Marco Non è facile Ah Ok, ok Bel, bello, bello 2,99 L'album di figurine? No Ok Se paghi Hai fatto Eh, tanta esperienza Nelle dette Tutte scalate Infinite Con queste speed Quindi bene o male Ho imparato a farle Ma non riesco proprio A arrivare alla seconda Raga Eh, tutta una gestione Di gestirti I rimbalzi Delle speed Per il proprio esperta Eh, ma ne fatte Fa 50.000 Ahia Allora Eh, noi ho fatto Questa cui tubi È molto strana Rimpalzando ogni volta Devi rimbalzare E gestirti il salto Ecco Marco E quello è il problema Di questo Non salti C'è la gravità Pesantissima Raga Ecco niente Come è possibile Per dire Posso comprare Quei robux Eh, no Peccato Però se compi l'album Di figurine Forse ti manda alla fine Non ho capito Sto cosa Della gravità Fere Se viene a casa mia Lo fai per favore Ok, ritmo Come diamine si fa Ogni volta che mi faccio Ah No No, no Raga Raga, non capisco Non capisco Questo come si fa Come si fa Marci Devi rimbalzare tante volte Sullo stesso salto Per prendere il ritmo Esatto Se non riesci a farlo di fila Rimbalza Finché non prendi il ritmo Che vuol dire? Marci, mamma mia Però, eh Guarda, eh Guarda, eh Oh, l'ho fatto Lo fa Bello Se c'è una cosa Che odio Devi fare I salti senza destra Che non devi fare lì dentro Sendermi lati Senza checkpoint Ma non c'è difficoltà, Steph? Più avanti? Ok, adesso Non cambia la difficoltà Nel tempo? Ma dipende Dipende Dattere l'esperienza Nei vari tipi di livelli Qualcosina di un postico C'è Ma mai niente di eccessivo Cioè, è giusto Infatti, mi piace Ma c'è perché comunque È una difficoltà Abbastanza corretta Per tutti i tipi di skill Sì, ma anche a me Divertono di più Quando sono così Perché poi Infatti Non ti annoia Nonostante non sia Esageratamente estrema Proprio perché I livelli cambiano Costantemente Quindi comunque Magari in alcuni Ci sbatti un po' Proprio di vai Non lo posso fare Mannaggia Ok Ok Mamma mia Questo livello Ok, fatto Infamica Cos'è sta roba? Ah, scompaiono i blocchi Bella Impulse Again Io stavo in difficoltà Quello col ghiaccio Ragazzi Perfetto Ah, la grande foglia Ok Come faccio a prendere Il tempismo Nei blocchi che scompaiono Steph Quelli celesti Io sono andato sul primo E ho saltato A sentimento Io però ci sono andato Cerco di saltare E mi sciotta Evidentemente non credi Nel cuore delle carte Vero Salto? Eh vedi Mi uccide quanto salto Non ci credi abbastanza Forse devo andare dritta Perché il salto Che mi sta uccidendo Allora Questo mi è sembrato Un po' cattivo No Questo era un po' cattivo Ma io adesso Mi piaccio raga Mi prendo la prima Semplice La prima trappola Mi ammazza raga Ok Ce l'ho fatta Non capisco Ok Ragazzi ce la faccio io È tutto semplice Davvero Dove raggiungere Steph Marco non puoi buggarlo Ma come vuoi raggiungermi Dove raggiungere Steph Guarda la differenza di livelli Correndo Cioè è palese Che tu mangi il panettone E io mangio il pandoro Si capisce proprio Aia Questa è brutta però Steph Io non l'avrei mai detta Eh invece l'ho detta Ma no Sono morta Perché Eh perché sì No Eh sì Ci puoi far nulla Allora 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 Quella con lo shockwave È un po' strano Allora Ok easy Dai salisci Velo male Adesso No raga io non capisco il dopo Cioè Chiere quando tu fai la montagnetta Raga livello 100 Ho sentito la musichetta Cosa Marci La montagnetta Dove sei Eh bisogna saltare Qua il ghiaccio Bisogna andare No vedi che non Poi qua perde il ritmo Perde velocità No allora Devi gestirti bene Le parti in cui ti abbassi E le parti in cui invece salti No ma non riesco proprio ad arrivare dopo E qua è il problema io Ma anche la prima parte è così No che brutto sto livello Cioè tipo Devi fare un salto Abbassarti Un salto abbassarti Quindi forse stai sbagliando quello Se azzecchi No ma non sono arrivato a quella parte ancora Io e Marco Siamo ancora all'inizio E qual è il problema Cioè all'inizio riusciamo a farlo Quello salti abbassati Poi c'è la Il coso Che salta un pelo Marco non lo stai facendo No Sta stavo baggando io Tu come fai Cioè Allora quando c'è la salitina no Raga Perde velocità Io non ho perso velocità Per quello non sto capendo Cioè io Io ho fatto le cose col tempismo giusto Non ho mai perso velocità E mi è dato liscio Ecco Quindi non ho avuto problemi E quello C'è un conflitto Contro di noi Cioè non ho proprio perso mai Velocità E quindi L'ho fatto il primo tentativo Quindi non so Raga un po' di livelli di fila Allora Uno Due livelli No perché mi hai fatto scadere la speed Maledetto Tre livelli Allora ho capito che non si può saltare Quindi devo solo correre Quattro livelli senza morte Bellissimo Quattro livelli Per me ragazzi si è baggato Si è baggato Porca miseria Sono d'accordo con te Ma non si può farlo senza ghiaccio Eh lo sto provando a fare in seghiaccio Il livello Veramente Cioè Boh Cosa c'è stato trovato È difficile Non lo capisco No no ragazzi Vi giuro Per me Marci non lo so Evidentemente state facendo qualche minimo errore Di cui non vi rendete conto E vi leva la Ah ma sicuro La velocità Sì Ma bisogna saltare poi Sono così In questi livelli Non so dove No No non mi uccidere Ti prego Ok Lol Allora ok Ok sono arrivato a quattro di fila L'ho detto Addio Odio le trappole che devi triggerare con i triangolini di fronte Cinque di fila Sei di fila Ciao Steph ti vedo Dove sei? Mi hai fatto un altro Cosa sia? Ah ciao Ha fatto un livello impossibile Ok Sono finite? No C'era il troll Non ci credo Sei di fila? Che devo fare? Allora Quante volte ci devo morire? Steph è il cento di centesimo Otto di fila? Cento di centesimo Ma noi sbagliamo qualcosa Marco Per forza Otto Otto Ok Noi perdiamo velocità dopo Marco Il secondo Mannaggia a me Mannaggia Allora Ok Ma faccio a trigger a sta trappola? Foglia E che sono? Troppo indietro no? Giusto giusto Ok ce l'ho fatta Uh Bella questa Non lo savo da dieci anni E' scomparso il piccone Che bel bug Ok Volevo farlo senza ghiaccio Bello Em Ah ok Allora Spicolo Bello sto livello che ho provato Ma sinceramente No Cacchigetti Raga non mi ricordo come Non riesco Ah Marcolino Allora ok Mannaggia Mi ero bloccato nella finestra Ok Ok Finestra è brutta Ah Qua devo fare da prima Ta 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 Fai il 75 È un bel ritmo Ci provo Ma Eh perché ti ripeto Questa è la difficoltà Giusta per me Cioè che un po' Mi fa impazzire Ma non troppo Quindi poi dopo un po' Riesci a farle E ti capisco Perché in realtà gli altri Le ho fatti un po' Gisci Voi siete gli bloccati? Sì Non riusciamo a farlo Io non capisco Qual è il problema Perché davvero Io davvero non le ho avuto Quindi non so come aiutarle Noi alla salita Perdiamo velocità E quindi dopo ci becca la trappola Vado sul bidone E muoio Perché? Ti prego Sì Finalmente No No Mandami una foto di livello No E quindi sono bloccata così No non puoi Magari arriviamo noi Boh Te l'ho mandata Steph Ma secondo me non cambia nulla Fammi vedere che livello era Quello dei bidoni Allora Ma il rampino Se riuscire a farlo Maracolo Ecco No ricomparsa la gomma Dai Ho aspettato un pochino E ricomparsa Però sarà buggato Cos'è sta roba? Ci salto dentro Allora posso dirvi che Effettivamente la difficoltà Ora sta iniziando ad aumentare Vabbè E anche ora Sì Dal 120 Sto iniziando a impazzire Allora guarda È easy che ti raggiungiamo Arrivo Steph Sì sì Parolone No ma perché i blocchi Mi ingannano e sono sempre qualcosa Che in realtà non sono Qua Se prendo il centro Mi fa cadere Che bello Nell'estupatura raga Che vita brutta Calma Io mi sto concentrando eh Anche io Ok Sono morto Marco si è concentrato tra poco No raga Sta roba mi sta facendo dannare Già Già Posso morire gentilmente Grazie Sì Raga quello del ghiaccio Ci ha rovinato a me Marco Ci ha proprio rovinato Eh sì è vero Via Raga mi mancano 70 livelli Mannaggia Sono tanti 70 livelli Sono tanti Soprattutto a questa Difficoltà E direi Che è aumentata leggermente Ma si è ancora al 120 Ah no 130 Allora Mannaggia Stiamo calmi Come se ando a spacca qualcosa raga Ok Io riesco a fare considerate le cupolette Ah se vi credo bene questo si fa tipo così Uff Fatto finalmente Ma che Perché È troppo in fame Raga È troppo in fame Quando andate avanti Ci sono sempre cose che non vi aspettate Che sono in quel modo No vabbè Però c'è E c'è lì E c'è là Io vado là E muoio Allora Che vi scompaiono Da sotto i piedi E cascate No non lo dico Ok Lascio il beneficio del dubbio 2 ore 99 Esatto Che devo fa qui adesso No Ok Perché mi ha fatto porre Quelli no di ferro I salti obliqui No raga Ogni livello è un'esperienza In questa Detran adesso Sì Un'esperienza mistica Altro che Però da quando Mi le segnati marci Adesso li so fare Quali? Quelli storti? Sì 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 Beh Li ho fatti per strike Pensa che l'altra volta Ci avevo passato 40 minuti della mia vita Porca miseria Sì è così Io l'ho fatto bene L'ho fatto L'ho fatto triggerare Cosa? Dove vengo giù C'è il senso Molte volte pensi Che una cosa sia Molto più difficile È mo' salto troppo E prima salto troppo poco Poi troppo E come si fa questo? Bello Porca miseria Dico io Questo è tanto giusto Ecco E poi c'è Nat Che ci sta aspettando Ah c'è pure Nat Sì per il video del nascondino Gli avevo promesso Ah giusto raga Vedrete Vedrete il segugio In azione Ok Non avrete scampo Che dovevo fare qua? Sono morta Ah cavolo Questo è impossibile Ecco perché è impossibile Perché dovevo andare qua Ma perché ci muoio? Non l'ho capito Sto livello Non l'ho capito Come farebbe stare un po' più calma? No Ah perché devo prendere ok Allora Ecco fatto Risolto E' ma che è sta roba Ah la doveva scherarà così Perché Steph sta piangendo raga? Non lo so E non lo voglio sapere Il mio obiettivo è superare fiere Pesante Non puoi Mamma mia Marci Cattiva E anche la sua risposta è tutta cattiva Mi piace questa sfida che c'è tra di voi No perché cioè insomma Bisogna comunque porsi degli obiettivi nella vita Sono d'accordo Io guarda Se arrivo a livello 100 Che è tra 3 livelli Sono felice Bene da degli obiettivi Io mi pongo degli obiettivi raggiungibili ragazzi Allora Così Oh cambiano fisso ok Allora Alto Muoio Bello Ti prego Ma Quello dei bidoni ha triggerato un botto raga E' stato stranile Forse è quello che si è bloccato a fiere Si Si Ti ha funzionato Vediamo Al primo colpo si Raga non riesco a fare questo salto No Non riesco Ho un problema Io sono la ragazza Perché non ci arrivo questo salto in alto La piattaforma raga come si fa scusa Mi sa che si è triggerato con voi Allora C'è un reset C'è il bottoncino Steph come hai fatto a fare nelle asti di legno quel salto altissimo verso l'alto Non riesco Se mi mandi foto li ricordo Al 20 no Trovate il red block Vabbè dai Prima o poi ci riesco Tanto Niente ma non ci arriva È impossibile Sto sbagliando qualcosa per forza È troppo in alto Ciao piccola Nat Siamo in video Stiamo facendo una dettrona a 200 livelli Ciao Nat Ciao Nat E' odiosa che sta dettrona Nat Quanto sei Steph Sono a 146 Io non so se Nat ci sente Non è possibile Non funziona Steph questo Guarda Io si tromando Perché sono arrabbiatissima Ma mandami una foto Non mi ricordo più Dai Steph Non mi ricordo più Non ci sale il personaggio Cosa devo fare Non ci sale C'è qualcosa che ti sfugge però Ma cosa Ma non è il salto laterale quello Fer Hai ragione cavolo Può succedere L'ho finito Grazie Prego Fer 99 Fer Dopo poi ci capisco più niente Non mi funziona più la mente Capisci Cioè quelli che ti ho spiegato io Non sono riuscito a farlo Io te lo dico Così Dopo poi fan Perché io riesco a farlo No però Se mi fai la cosa Che quello salta E quello non salta Poi io non salto più Raga posso accettare Questo livello Che a ghiaccio E farlo senza ghiaccio Secondo voi Io ci ho provato Io alcuni li ho provati A cittarli Non si possono Dicitare Secondo me si Mamma mia Al first try Raga Ma che ero 49 Non mi esprimo Io te ne ho mai Mi era caduta da ferma Allora Vabbè intanto abbiamo fatto Lo dopo dai Sto fa punto Anderlo sbagliato Sei caduto No però Scusa Fere falli con calma Scuso Ok No raga Questo livello Mi sta facendo dannare Il 101 Ok Guarda Marco Ma io troppo a fretta Ogni tanto Vedo strade Che non sono strade Allora Fermi qui E io lo cito Ma questo è brutto Sicilissimo Vai noi Ne abbia citato uno Con Marco Adesso No io questo cito Raga Mi piace troppo fastidioso Devi prendere Molto No Se arrivi al 120 Impazzisci Poi devo dire Che un po' si è calmato Adesso Sì questo conferma Che non si fa Anche senza ghiaccio Comunque Vuol dire Che quindi Si poteva fare No io ho finito il ghiaccio E mo? Che devo fare? Si può citare? Ragazzi Ehm No mi si è buggato Perché? Guarda io non avevo più il ghiaccio Io non mi esprimo su Oh posso arrivarci? Posso citare Una metà dei livelli Di questo ma Non so se posso arrivare No io Vabbè Quella con il ghiaccio Era fattibile uguale ragazzi Gli ultimi due L'abbiamo citati con Marco Quindi secondo me Lì il ghiaccio Era messo solo Per dal fastidio Molto onesti Ok Ancora 41 raga Emo? Ok ci siamo arrivati Madonna ragazzi Non riesco a farlo Si può citare anche questo? E basta però Ok Il problema del cheating È che dopo che inizi Non finisci No io Io ne ho fatto uno Che si poteva fare in due modi Fine No è vero Altrimenti ti avrebbe bloccato Ehm Effettivamente Ha ragione fiera Si può fare in entrambi i modi Hai visto? Cioè se ci pensi Perché altrimenti alla fine Ti avrebbe messo Un salto troppo lungo Che non avresti potuto fare Solo per darti fastidio Infatti Vi lascio a parlare di voi Perché Se parlassi con voi Diventerei meno campioncino Guarda Quasi quasi Li cito Tutti dir supero No gli altri non li citi Figati che Gli altri non li citi Mi anche volando mi superi Non si va a fare il gcm1 No Non l'hanno ancora inventato Purtroppo no Ma guarda Ringrazio che ci sono i checkpoint Perché inizialmente Non c'hanno manco quello E adesso comunque A scelta del creatore Metterli o meno Però di fatto Almeno ce li ha Che cavolo Perché sono finito qua Così cattivo E non mi ha dato neanche Il checkpoint immagino Esatto Che bello Quella con la velocità Sono i miei livelli Prefe La prima volta che muoio A livello con la velocità Io sono Però è bellissimo Tu sei arrabbiato? Perché ha messo Quella roba Per non farti accorgere Furbo Molto intelligente Questo ragazzo Ah è un dropper Mini dropper Ok Sbagli sei morto Ok Perché sono Non so perché Ma perché? Il mio io ha detto Vai vai 1,7,1 Doppio 17 Supporta Critter 23,1,7 14 giorni 2,99 Poi Ok Non posso mica esagerare Morto Mi sa che sono Quello che non riusciva A far te Era il 98 Che non riuscivi Vediamo dove sei Ok Sì perché devi fare il salto di lato Non in alto Questo è veramente tosto Questo è tosto Ma se hai ragione Sapete? Lo so che hai ragione Ma se lo faccio di lato Oh meno male Non ce la fai Non si può citare questo Vedi? Vedi che ha fatto bene il ragazzo Bravo bravo Complimenti Io non ho parole per nessuna di voi Allora andiamo Io sono stato bravo Oh ragazzi E che diamina Come hai fatto a non prendere il ghiaccio Fer Sempre come Ho aspettato Che scadesse Non c'è modo E ma cade Mannaggia a lui Mannaggia Devi star fermo E aspettare che ti scada Sì Non c'è modo di non prenderlo Beh perché quelli liberi È impossibile Poi ti ripeto Se le fai a piedi Va bene uguale Allora Come voi Steph L'ha fatto giusto? Ok Boh Forse sì Forse no Chi lo sa Dai rompiti No No È vero Non è vero This is good Cos'è sta roba? Ah Bella sta meccanica pure Allora Ok Allora Vediamo se adesso diventano più difficili Sono al 123 Come ci entro in questa finestra? Ecco il primo Sì ciao Ma quello è solo lo spigolo Fare ticori Attestata sullo spigolo Te l'avevo già insegnato Allora No non la so dare Che belli i tubi di Fortnite Sono proprio piacevoli Sarci il sapore È proprio Vabbè il mio percorso si conclude di fronte a una finestra No no Fiere fiere Devi giocare bene No ragazzi Quindi in fondo Non si molla mai Steph Ma devo saltare molto in anticipo Molto in ritardo Devi puntero a dare una testata sullo spigolo Eh non riesco a darla Porca miseria Ah Raga rompa la tastiera in 5 Eh sì ma ce ne vuole un po' Per romper la tastiera per fare il livello Tutti e due Ce l'ho fatta ce l'ho fatta Uh 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 Brava Ho puntato E sono caduta da sola a livello dopo Ho caduto da sola Ho puntato letteralmente Anziché a saltare la finestra A darci una testata È quella la strategia È così ha funzionato Sì sì È la strategia dello spigolo No Eh Fere non ti lo aggiungo più io Zero proprio Sono il 108 Ma questo lo devo fare di lato No E allora come lo devo saltare? Che rubido è impossibile 15 livelli Ok Bravo Step Tutto così di fila No Questi salti sono impossibili Ma quella caduta Per andar giù Come si fa Ti beccano subito Forse bisogna saltare sul posto Esatto Ma dai Sono tutti comunque abbastanza fattibili No ma non c'è mai l'impossibile Esatto 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 Salti lunghi lunghi Niente non riesco È proprio un max jump È proprio un max jump Ma proprio di quelli Che è proprio max Esageratamente max Esatto Vediamo se riesco ad aggiungerti Allora Fere Non fa non fa Non fa non fa Ho deciso Finito 192 No 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 È finito No Sei stephen 137 Devi farli tutti Guardate che se no Se non gli finisce Non è un campioncino Forse lo sbagliato a strada Ti dependo la carica da sindaco Te lo dico Se non la fai Ti dependo la carica da sindaco Avevo sbagliato a strada Ok Tutto a posto Tutto a posto Su Dai Me ne mancava uno Sì S'ha andato A Bali Bella Molto Molto No Ho sbagliato la gosfora La smocca Cioè Da Marchi Meno 4 Ma c'è quasi per affaire E anche lui a meno 4 Perché questo è impossibile Cioè Meno 2 per Marchi Non fa proprio Ora fai io te lo dico Ci voglio provare lo stesso Farlo Ma magari ti esce Queste le abilità Ma io non sono abile per niente Guarda L'ho fatto Mio Dio che bello Addio Aia Ma qual è che non riuscivi a fare Esattamente 124 Quello con Il prossimo Quello dopo la finestra E come si fa a prendere No ho perso il ritmo Accidenti No Devi sbatterci la testa No Sì No Ho sbagliato in strada Perché non guardo le frecce Devi proprio puntare a sbatterci la testa E quello che ho fatto io Marci Più di così non ti posso dire Perché io ho puntato a sbatterci la testa Dopo 40 tentativi ce l'ho fatta Non ho capito cosa sbatterci la testa Nel bordo della finestra No parte alta Ma Chi è Jack Spar Dimmi che responi Dimmi che responi Ti faccio anche un balletto Grazie No ma è Raga Sono scemo allora Non ho mai fatto una roba del genere Ma se l'hai dovuto fare l'altra Detran E uguale Quello della Quale Quello dove sbatti la testa Nel spigolo Per andare sulla finestra Bene Ok che vuoi Sto impazzendo al 199 Ok E a me non sembra difficile Ok fatto Oh infatti Mannaggia me Dove hai fatto? 200 Bravo Step Però cioè non è che sono Extra gli altri due Non c'è il GG Se non li fai Quindi altro che extra Mannaggia lui Mannaggia E allora falli Ormai ci sei Step per due Ti fermi Ma come si fa a citare sto livello? No non puoi citare niente Da qui in poi Marci Ma come si fa? Corri Non riesco manco ad andare là Ho un problema con le strade Eccomi qui Ma bisogna essere abbassati per farlo? Quale? Quello della porta La finestra No no In piedi devi puntare Antiché a superarla A sbattere proprio la testa Nella parte alta Se ti concentri su quello Dopo un po' ti esce Questo è il consiglio Che mi ha dato Steph Ed è come l'ho fatto io Però si è una meccanica Un po' strana Ma devi partire da attaccato Comunque No no Io ho fatto un salto Abbastanza staccato Non troppo Ma ne ho incappiccicato Dai per camminare A sti tubi Steph Come sono gli ultimi due livelli? La morte? Ho finito Hai finito? Sì No Sei al 201 Devo andare al GG Ma mi ha Mi ha truffato No Marco No 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 Come ti ha truffato? Che vuol dire? Perché facciamo Vuoi fare i livelli extra Andare al GG room Sono andato al GG room E ci sono i livelli extra No Comunque se lo stai facendo Marco Ora faccio Questo è essere proprio In famoni Steph No aspetta Oh si era bagato Ah Ho finito Guarda che i begli oggetti C'è il GG E qua cosa devo fare? Bello Allora io sono andata Relativamente bene Dai 131 Ragazzi Infermiamo 40 minuti di Detran Però ho fatto la porta Bravo Marci Fere è arrivata a seconda Complimenti Marci e Marche Si sono persi Durante il tragitto La mia esperienza Nelle Detran infinita Alla fine è servita Qualcosa La mia vita Grazie Sotto compagno altri video Iscriviti al canale Campellino E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao